bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder ragazzi e la notizia è di qualche minuto fa ragazzi non potevo non dirvelo ragazzi è appena stato annunciato un mashup tra il nuovo film degli avenger e fortnite e tu mi dici xyuder il make up no un mashup ragazzi non è che si truccano nel senso un mashup ragazzi è l'introduzione per un periodo molto limitato in fortnite di un elemento che caratterizza in questo caso gli avenger e non stiamo parlando proprio di un elemento che fa proprio non si sa ragazzi stiamo parlando di questo dai che lo so che lo sapete che cos'è ragazzi questo è il guanto come cacchio si chiama il guanto dei super fighi in poche parole aspetta che non mi ricordo il nome il guanto del destino non è il guanto del destino è il guanto degli avengers chiamiamolo così non ricordo comunque ragazzi te lo dico subito il guanto dell'infinito questo è il guanto dell'infinito ragazzi praticamente cosa succede nella mappa verrà nascosto quel guanto lì il guanto del super figo chiamalo come vuoi chi troverà il guanto dell'infinito si trasformerà in Thanos e avendo la possibilità di trasformarsi in Thanos avrà dei super poteri solo ovviamente per quella partita ragazzi domani inizia ufficialmente l'evento io voglio che questo video lo fate girare proprio a tutti quelli che conoscete perché è una genialata ve l'avevo detto due o tre settimane fa che Epic Games aveva fatto un contratto qualcosa delle voci di corridoio andate a vedere i miei video vecchi con quelli degli avengers così è stato ragazzi pronti per trovare il guanto dell'infinito beh di certo noi lo cercheremo domani in live comunque ve lo ricordo un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo stasera ciao 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 ciao